Ristrutturato e sistemato in tempi record dopo il sisma dello scorso maggio, il complesso di Santa Lucia ospita anche il nuovo auditorium, inaugurato ufficialmente martedì 18 dicembre dal magnifico rettore Pasquale Nappi, congiuntamente al presidente di Ergo, Angelo Di Giansante. Nonostante l'anno problematico che si sta concludendo, dovuto non solo al terremoto ma anche agli adeguamenti per la riforma universitaria e alle varie normative, il rettore ha voluto sottolineare la forza e l'energia che contraddistingue l'Università di Ferrara. Il capitale umano è fondamentale, dice Nappi, che ha concluso rivolgendo a tutto il personale universitario un augurio di buone feste e di un nuovo anno migliore. Con questo spirito, con questa volontà di farvi i miei migliori auguri per queste feste che arrivano, di buon Natale e soprattutto per un 2013 che sia migliore di questo 2012 che vogliamo lasciarci alle spalle. Vi ringrazio. A seguire l'intervento del presidente di Ergo, che dopo aver parlato dell'intensa collaborazione tra l'azienda e l'università, ha letto un breve pensiero dell'assessore Patrizio Bianchi, il quale non ha potuto essere presente all'evento. Per concludere, tra i vari scambi di auguri, tutti i presenti sono stati invitati ad un breve rinfresco per festeggiare insieme la fine di quest'anno. Grazie.